Cosa succede in Francia, Andrea Scazzola? Oui, monsieur. C'è tu? C'è tu, io sono tu. Qua è 3 euro, si paga tutto con le carte. Il contante, insomma, è quasi sparito. Non c'è, non c'è l'uso del contante, la moneta classica è stata praticamente imbandita. Niente contante e tutto sotto controllo. Qualsiasi cosa si batta sulla cassa va direttamente all'ufficio delle imposte. Evadere non è facile. Difficile evadere qui in Francia e le tasse non sono basse, soprattutto quelle sulla casa. C'è quella per l'acquisto, quasi il 6% sul prezzo reale di mercato. La tassa sul prezzo d'acquisto è veramente alta. C'è la tax foncier, una specie di imu, ma si paga anche sulla prima casa. E la tax foncier di quest'anno, 1700 euro. Più la tax d'abitazione che paga chi nella casa ci vive. 1700 più 1100, arriviamo su 2,8, comincia ad essere una città. Sì, va bene, i servizi sono all'altezza anche delle tasse che paghiamo. Sì, scuola gratis, sanità, tanti aiuti alle famiglie e qui a Parigi si lavano anche i vetri delle fermate dell'autobus. Ma se di tasse ne hai pagate troppe, te le restituiscono sul conto corrente. 1800 euro, motivo credito d'imposta, abbiamo ricevuto questi soldi. Una buona sorpresa ogni tanto.